Disse loro Gesù, figlioli non avete qualcosa da mangiare? Gli risposero no, e gli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e ne troverete. La gettarono e non erano più capaci di tirarla su, tanti erano i pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione